A Santuario c'è la Software House di Paolo Congiu che ci presenta questo personaggio mitico, Zio Zizio Paolo. Che cosa ha inventato lei che è un diavolo dei computer? Zio Zizio è un personaggio tipico bonarcadese, infatti Zizio era proprio un nome che si utilizzava tantissimo a Bonarcado. Abbiamo creato questo personaggio, adesso è diventato una mascotte pubblicitaria quasi perché lo utilizziamo per fare produzioni multimediali, promuove i prodotti del Montiferro e tantissime altre cose dietro. Farastico, cintua, 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 cintua. Ecco, per quanto riguarda sempre Zio Zizio Paolo, lei ha inventato un giochino al computer che ci riporta alla lingua blu, come si chiama proprio questo gioco? Allora, Zio Zizio è Zinzula Mala, è un gioco che è stato creato per una ditta che produce loculi cimiteriali, quindi abbiamo creato proprio una storia per pubblicizzare questa azienda. Praticamente c'è il personaggio che deve ammazzare tutte le zanzare che trova nel percorso e poi alla fine trova una cura inventata naturalmente, salva tutte le pecore da questa malattia. Sembra un auspicio, se vogliamo, visto il dramma che si sta vivendo anche in questi territori. E' più che altro un messaggio di speranza. Io ringrazio Paolo Congiu per la sua testimonianza su Sardegna Verde e andiamo ora a conoscere un'azienda zootecnica a indirizzo Bovino. Grazie.